Grazie Missella, ci ha passato il gelato a tutti oggi? Ma si, quindi quando passa il gelato si riprende il signore? Eh no, ora quando lo prenda... Marina, ma ti piace il gelato o no? Sì, quanto? Ce lo mando, ora... E se gli piace tanto più male lo lecchi tutto in quella maniera, povera bestia? Il gelato, sì, 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 uno lo assaggiavolo... Ma da 1 a 10 quanto ti piace? I cuori... Uno, due, tre, quattro, quanti quanto? O 11 Eh? Osteria Eh non lo so Petro Ma Sandro ti ha detto che ti porta Ti accompagna Sì, come è?